Ti è mai capitato di avere a che fare con persone che non sono riconoscenti, che non apprezzano il tuo aiuto? Magari hanno addirittura un atteggiamento un po' aggressivo o nervoso quando tu dai loro una mano, eppure tu ci sei sempre. Ogni volta che hanno bisogno sei disponibile, ti fai avanti per aiutarli. Sei una persona che oggettivamente ha fatto qualcosa di buono nella loro vita, ma noti un atteggiamento che è talvolta di nervosismo, come se in qualche modo ci fosse una tendenza sia a prendere l'aiuto che dai, ma dall'altra parte ad allontanarti. E questo ti mette dei dubbi, comincia a farti pensare che forse le persone non apprezzano l'aiuto, le persone non sono riconoscenti, o addirittura che le persone non capiscono che sono stupide, o che sono immature. In questo video ti propongo una riflessione sull'aiuto un po' diversa dal solito. Mi riferisco soprattutto a quelle situazioni in cui tu veramente ti dedichi, veramente dai molto. Rifletti insieme a me. Io aiuto qualcuno, ogni volta che ne ha bisogno, in ogni momento. E questa persona che fa? Questa persona inizia ad appoggiarsi un po'. Inizia ad adagiarsi sul fatto che io le dia una mano, che io ci sia. Ed è una cosa positiva magari, perché ne ha bisogno. Ma inizia anche ad avere un atteggiamento quasi di fastidio, di nervosismo. Nel caso dei figli addirittura ti mandano a quel paese. Che cosa sta succedendo in quel caso? Sta succedendo questo, ovvero ognuno di noi affronta dei momenti di difficoltà in cui ha bisogno di dipendere, tra virgolette, dall'altro. Noi viviamo in legami di interdipendenza, cioè non è che io dipendo da te e basta. Ognuno di noi ha qualcuno da cui dipende. La questione qual è? Che per emergere nella nostra individualità abbiamo bisogno di diventare persone che sono sempre più autonome e indipendenti. Per poi arrivare a capire che cosa? Che non posso essere totalmente autonomo, totalmente indipendente. Ho bisogno degli altri. E lì inizia a mentalizzare questi legami di interdipendenza reciproca, in cui facciamo parte di una comunità, dove le persone hanno dei ruoli diversi, dove ci sono cose di cui mi devo occupare io e cose che invece ho bisogno di far fare ad altri, chiedendo il loro aiuto. La questione qual è? Che nel momento in cui io cerco di emergere, far emergere la mia individualità, se io ho ricevuto spesso, mi sono abituato ad avere un aiuto da parte dell'altro, quello che succede è che ho iniziato ad adagiarmi e quindi ho iniziato a coltivare non la mia autonomia, ma la mia dipendenza dall'aiuto dell'altro. L'aiuto, quindi in questo caso, questo aiutare ed essere sempre pronti a dare una mano, si trasforma in qualcosa che istiga la dipendenza nell'altro. L'altro però che ha? Ha la stessa cosa che hai tu, e cioè una spinta all'autonomia, una spinta all'indipendenza, una spinta all'autoaffermazione. Questa spinta è innata negli esseri umani, la puoi sopire in mille modi, la puoi reprimere quanto vuoi, ma con quella spinta ci dovrai fare i conti nell'arco della vita, più e più volte. Nel momento in cui si è creato un rapporto, un legame di dipendenza tra me e la persona che mi sta aiutando, quello che succede è che io inizio anche ad avere il bisogno di essere autonomo, ma questo bisogno di autonomia non riesco a metterlo in atto. Un po' perché mi sono adagiato nella mia comfort zone, un po' perché ho creato e ho contribuito a creare questo legame di dipendenza, un po' perché la persona che mi aiuta, mi aiuta troppo scelermette, è troppo attiva nell'aiutarmi, quindi stimola questo mio adagiarmi. Questo succede soprattutto nei rapporti genitori figli. Quindi che succede? Quali sono le emozioni che permettono il distacco? Sono emozioni di rabbia, sono emozioni comunque aggressive, servono a questo, servono a porre una distanza. Quindi quel nervosismo che vedi, quella riconoscenza che vedi in alcune persone, che tu aiuti così tanto, è la loro spinta all'autoaffermazione. E per autoaffermarsi devono fare da soli. Devono anche sbagliare e imparare ad apprendere dai loro errori, ad imparare ad apprendere dai nostri errori come si fa? Sbagliando e poi risbagliando ancora. E poi sbagliando ancora, e poi sbagliando ancora, e poi un giorno dici, beh, forse devo imparare qualcosa da questi errori. Altrimenti continuerò a sbagliare, la mia vita andrà nella direzione che non mi piace. Quindi fondamentalmente la questione qual è? Che quella nervosismo che tu percepisci è proprio questa loro spinta all'autonomia e all'indipendenza. è il tentativo malfatto e messo sul piatto in maniera molto immatura di allontanarti, di tenerti lontano, per autoaffermarsi, perché quel legame, da un lato è fondamentale, è importante perché dà molto, dall'altro lato sta diventando tossico. e quindi perché reprime o inibisce la loro spinta, o quantomeno è ostativo, ostacola, la spinta alla tua affermazione, all'autonomia, all'indipendenza. E quindi la persona inizia ad avere un sentimento ambivalente nei tuoi confronti, di cui spesso non è nemmeno così cosciente. E quando è un adulto a farlo e non un figlio adolescente, questa cosa ti fa anche piuttosto arrabbiare. La questione qual è quindi? Che il modo migliore per aiutare quella persona è quello di prendere una leggera distanza e cominciare a non esserci più come prima. Tu dirai, ma quella persona nel momento in cui io mi distacco si appoggia. Sì, è esattamente quello che succede. Perché se da un lato ha questa spinta all'indipendenza e all'autonomia, manifestata in un modo così rudimentale, quindi immaturo, ecco, vuol dire che è più strutturata che cosa? Non la spinta all'autonomia e all'indipendenza, ma è più strutturata la spinta a dipendere da te e ad adagiarsi. Quindi la tendenza sarà quella di dire ah, adesso non mi aiuta, non c'è, a cercarti per vedere se si ristabilisce quel tipo di legame che ha creato una comfort zone malsana. Il modo giusto quindi è quello di accettare l'idea che io aiuto e anche se lo faccio incondizionatamente in realtà il mio ego la ricompensina la vuole. Ok? Ecco, ho bisogno di spostare quella ricompensa da sentirmi buono, sentirmi bravo nell'aiutare l'altro a godere della sua autonomia e della sua indipendenza, del fatto che impari a camminare con le sue gambe. E questo implica tollerare un po' di frustrazione. non avrò quella gratificazione immediata che ho dall'aiutare perché mi sento bravo, mi sento buono, mi sento coerente con il mio modello di mondo, eccetera, eccetera, eccetera. Oppure perché sono preoccupato, ansioso e allora essendo un genitore preoccupato, ansioso aiuto e quindi non sono più preoccupato e ansioso. Ecco. Quindi dovrò imparare a tollerare questa frustrazione perché mancherà questo genere di ricompensa. Ma ci sarà una gratificazione molto più grande quando io vedrò quella persona camminare con le proprie gambe. Ecco, in questo senso io ritengo che si possa parlare di amore incondizionato. Ma solo in questo senso. Incondizionato da quale punto di vista? Che io non cerco la ricompensa immediata ma cerco l'autonomia dell'altro. In realtà è comunque un amore condizionato. Perché? Perché la mia gratificazione avviene quando quell'altro si rende un pochino più autonomo. Si eleva un po'. Ma non è più una condizione messa dal mio ego che immediatamente vuole qualcosa per sentirsi buono bravo, bello, giusto o per acquietare le sue ansie e le sue angosce. Ecco, quindi il discorso dell'aiutare dell'altruismo anche nei rapporti genitori figli ma anche negli altri rapporti tra adulti ecco, è un pochino più complesso. sapere aiutare ed aiutare sono due cose profondamente differenti. Fammi sapere se questo video ti è stato utile scrivilo nei commenti fai le tue osservazioni nei commenti sarà utile per tutti noi leggerle. Grazie.